Molto molto deciso, con grandi anticipi di linea, grande precisione, il suo vantaggio, madre, è di 70 centesimi di seconda e ha guadagnato altri 18 centesimi, proprio non sta facendo una gara a rifarmi Alberto, anche se io sono, non lo so, è difficile, lui davanti a così tanta gente vorrà sicuramente vincere, però insomma un minimo di calcolo magari lo farà anche. Siamo Alberto in azione, Forza Alberto, lasciando con grande precisione, molto attento, puntuale nei campi, sono rimasti 49 centesimi da gestire, Forza Alberto qui sotto è il suo pane, quando c'è da far andare in scena i tratti un po' pianeggianti, qui è arrivato lievemente in ritardo di linea, potrebbe aver perso qualche cosa, speriamo non troppo, Forza Alberto, 2.15.54, non dovrebbero esserci problemi e con 15.14 vince un'altra volta, assolutamente straordinario, primo in questa gara, primo nella Coppa del Mondo Generale, primo nella Coppa del Mondo di Slalom Gigante, primo nella Coppa del Mondo di Slalom, fantastico Alberto, niente da dire. C'è un'altra volta, assolutamente straordinario.